Soprattutto con il centrocampista che dà spalle al campo, la palla la devi dare in modo perfetto perché da dietro ti attaccano subito. Nel frattempo perde palla, gollo, ballo. C'è anche un palla abbastanza niente da di giusto. Si lamentano tutti in campo. Lo stesso Osimene che quasi sta mandando a quel paese, in questo caso gli avversari. Vedi che Osimene si sta lamentando con spalletti, ho detto questo era palla. Eh, Osimene non vuole perdere nemmeno negli amiche, nemmeno negli allenamenti. Diciamo che, sentiamo, sentiamo, cerchiamo di capire. Stanno discutendo, stanno discutendo. Dai indicazioni ai compagni Vittor Osimene e fa ripartire, uh fuori. Fuori, attenzione, cacciato l'allenamento. Espulso Vittor Osimene da Lucano Spalletti. E' una cosa clamorosa, attenzione. Spalletti manda via dall'allenamento Vittor Osimene. Questa è una cosa che invita a lamentarsi. Continua a lamentarsi Vittor Osimene, eh. Questa è una cosa clamorosa, signori. Spalletti è cacciato dall'allenamento Osimene che esce dal campo. Questa è una cosa che mi lascia abbastanza perplesso, l'arte. E' espulso per, tra virgolette, per proteste. Si è lamentato un po' troppo Vittor Osimene, secondo Luciano Spalletti. Si è lamentato con i compagni e infatti arriva Ambrosino al suo posto. Che era, l'avevamo detto prima, nel palestra. In palestra, a fare lavoro fisico, lavoro atletico. Cambio quindi nei gialli. Esce Osimene, entra Ambrosino. Osimene è mandato sotto la doccia da Luciano Spalletti. perché si è lamentato per come ha risposto nei confronti di Spalletti e come si è rivolto probabilmente nei confronti dei compagni perché è stato poi quello il momento in cui Spalletti ha indicato l'uscita a Vittor Osimene che non vuole lasciare mai niente sul campo.